Allora con uno Scovace vince Calzeloni a Verona, arriva la quinta vittoria consecutiva, miglior giocatore in campo questa sera. Sì, abbiamo vinto ancora una bella partita tosta, sono molto contento e molto orgoglioso soprattutto perché abbiamo iniziato la partita molto male, siamo entrati in campo con la testa già che vinciamo 3-0, purtroppo non è così, Milano è una grande squadra, ancora è dimostrato, anche se non gioca in altissimo livello in questo momento, loro sanno giocare, hanno molti forti giocatori e oggi hanno dimostrato, però noi siamo stati più forti in momenti decisivi. Infatti abbiamo avuto l'impressione che nel primo set, un po' bloccati, poi avete trovato la marcia giusta anche se è stata comunque una partita sofferta. Eh sì, come ho detto già, siamo entrati in partita molto male, loro hanno giocato molto tranquilli, senza pressione, invece noi non lo so perché eravamo così un po' tosti tutti e però siamo riusciti a vincere altri 3 set, cosa molto importante perché per noi ogni punto è importante e andiamo avanti. Bene, allora ti ringraziamo, ancora un grosso complimento per la vittoria di questa sera. Grazie mille, grazie. Allora, un'altra partitona. Ti hai cambiato il po' se ti so.